Claudio Baglioni ha preso una decisione importante per la sua vita. Ecco come è cambiata la quotidianità del cantante. Claudio Baglioni, nato il 16 maggio 1951 a Roma, è uno dei cantautori più celebri e influenti della musica italiana. Con una carriera che si estende per oltre cinque decenni, Baglioni ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano, grazie alle sue melodie affascinanti e ai testi poetici. Anche oggi continua a essere una figura centrale nella musica italiana, influenzando generazioni di artisti con la sua visione artistica, e il suo impegno costante per l'innovazione. La sua carriera è un esempio brillante di dedizione e passione per l'arte della musica, come dimostra il grande successo ottenuto. Eppure di recente sta circolando una notizia sul suo conto tanto inaspettata quanto spiazzante. Pare che Claudio Baglioni voglia rinunciare a qualcosa. Claudio Baglioni, il grande talento canoro apprezzato dal pubblico. Fin da giovane, Baglioni mostrò un grande talento per la musica. Il suo primo grande successo arrivò nel 1972, con l'album, Questo piccolo grande amore, un concept album che racconta una storia d'amore giovanile ambientata a Roma. Questo disco non solo lo consacrò come uno dei principali cantautori italiani, ma fu anche premiato nel 1985 come canzone italiana del secolo, al Festival di Sanremo. Baglioni ha avuto una vita sentimentale intensa. Sposato con Paola Massari, da cui ha avuto il figlio Giovanni nel 1982, ha divorziato nel 2008 e poco dopo ha reso pubblica la relazione con la sua manager Rossella Barattolo, con cui condivide ancora oggi vita e lavoro. Claudio Baglioni, la rinuncia che gli ha cambiato la vita. Negli ultimi anni, Baglioni ha continuato a lasciare il segno con nuovi progetti. Ha festeggiato i 50 anni di carriera con il tour, al centro, nel 2018, e ha condotto il Festival di Sanremo nel 2018 e 2019, rinnovando il successo della Kermess. Il suo recente annuncio di un ritiro dalle scene entro il 2026 ha lasciato i fan in trepidante attesa delle sue ultime performance. Claudio Baglioni ha sempre avuto una particolare attenzione per l'alimentazione. Per mantenere la sua forma fisica e mentale ottimale, Baglioni segue una dieta molto curata e sana. Il suo regime alimentare include sempre frutta fresca, verdura e carni magre. Un aspetto peculiare della sua dieta è la scelta di rinunciare a mangiare carne rossa, consumandola solo quando strettamente necessario. Questa scelta riflette un equilibrio basato sui principi della dieta mediterranea, conosciuta e apprezzata per i suoi benefici sulla salute.